Roma di qui a poco? Allora, intanto dovrebbe venire giovedì, quindi verrà per qualche giorno, perché lei poi sta per comprare casa e ha un po' di cose da sbrigare. Ma dove sta per comprare casa? A Milano, a Milano, a Milano. Per ora magari iniziamo così, a vederci, io vado su, lei viene giù, perché comunque il bambino, lei sa che la mia priorità è mio figlio e devo stare qui a Roma. Però, nel senso, lei vorrebbe fare un po' di esperienza anche a Roma, nel senso, vivere un po' più la città, vivere un po' più Pierpaolo. Vediamo un attimo, vediamo ora che viene, quali sono le tue idee e le mettiamo un po' in ordine con le mie. Ok.